Veloce vola, gira in balza, cale la palla, ma Luca non lascia Sembrava normale, era una bella giornata, ma ora la gara si è proprio fermata Mi grida d'aiuto, mi busca la mente, Luca mi ha detto che non vede più niente Sente la nausea, la testa gli gira, non mi risponde, affannato, respira La terra non si muove, sembra caduto, le profe hanno aiuto, Luca è svenuto Scriviamo il soccorso con l'acqua e l'aiuto, perché se sei male assistenza fai tu C'è un app sul telefono che devi scaricare, si chiama l'aiuto Ed è facile da usare, bisogna d'aiuto anche tu Chiama subito con l'acqua e l'aiuto Con i 112 potrai parlare, non ci sarà molto da aspettare Tiene la posizione laterale di sicurezza, è l'intervento di soccorso Ti direi bellezza, se succede un incidente o ti senti proprio male C'è la prima per te quella che devi chiamare Buongiorno e regenza, per lei cosa posso fare? Ci serve un'ambulanza, un ragazzo qui sta male Dove vi trovate? Nella scuola di un gioco Si deve anche invitare che piano ci aspettate Vi attendiamo in palestra, si trova piano terra Da qui non so capire a passare la barriera Non ci sono barriere, non ci sono le spalle Ma una porta larga da cui si può passare La posizione è stata rilevata L'ambulanza arriverà immediata Rimanda in linea, un angaggio per favore Le pazzo di emergenza parlerà proprio per favore C'è un app sul telefono che devi scaricare Si chiama Bueraiu ed è facile da usare Bisogno d'aiuto anche tu Chiama subito con la Bueraiu Con i 112 potrai parlare Non ci sarà molto da spedare Tieni la posizione laterale di sicurezza È l'intervento di soccorso Ti direi bellezza Se succede un incidente o ti senti proprio male C'è la rumba per te, quella che devi chiamare Un'aggenza sanitaria, bisogno di aiuto Un ragazzo è terra, è proprio svenuto In quale posizione l'armuno è cascato Un posto di subocasciato, sono molto preoccupato Si accadono, promette in posizione di sicurezza Sotto la testa lunga non ci va né una testa Lo posso gravare, dritto sulla stena Come se dovesse a mirare l'armatina Gambe distese sul materattino Come se fosse un principino Proprio squat e lentamente si lamenta Un pochino ma non credo che ancora mi senta Metta una mano sul petto, si espande Si alza o si abbassa Fa un respiro grave Il petto si muove ma molto lentamente Fate presto, perché tempo diventi cosciente C'è un'azzo del telefono che devi scaricare Si chiama Queraliù e le baci le da usare Bisogno di aiuto anche tu Chiama subito con l'acqua Queraliù Così 112 potrai parlare Non ci sarà molto da aspettare Che nella posizione la vera di sicurezza È l'intervento di soccorso Finita in bellezza Se succede un incidente o ti senti proprio amare C'è l'arco per te Queraliù e le dimenti amare Lo giri sul campo, respira ancora Ma compra con qualcosa, nemmeno per ora In questa posizione deve restare Finché non si riprenda e mi forse arrivare Mi dica un po' come è sospetto, è sudato È caldo, è freddo, vedete ho appannato Ha delle malattie, sta prendendo le vicine Nessuna che io sappia, ma non so nera le carine Ha avuto a tutti i tempi, il tampone l'ha fatto Sono positivi, non credo, proprio nessun contatto Ha avuto un po' come, tospero per due Negli ultimi giorni, queste ore No, solo adesso ne è venuto da volontari Si è sentito male, non so proprio cosa fare Ha avuto risentimento, magari ieri per non te dire Non so, questo è una vicinacchia, nessun'altra patologia Si nasce un telefono che devi scaricare Si chiama Veraniù, è facile da usare Hai bisogno d'aiuto anche tu Si chiama subito con l'acqua e radio Come i 112 potrai parlare Non ci sarà molto da spettare Ti è una posizione laterale in sicurezza E l'intervento di soccorso finire in bellezza Se succede ogni cinese o ti senti proprio amare C'è la cosa che fa per te Voglio la vita di camare Lo tenga sul piano, lo toglie e si respira Sempre coperto e si impiega con la salina Sapore e odori riusciva a sentire L'odore dei muscoli che facevano soccorso No, starà benissimo, ho appena fatto questo Ha iniziato a prendere gli occhi proprio adesso Spero che lo faccia parlare Ma attenzione, non si deve ancora avviare Lasciate libero il viale d'entrata La sua famiglia è stata avvitata Sì, la madre sta proprio per arrivare E all'ospedale lo può accompagnare Il signor Paolo anche ce l'aspetta L'ambulanza che procede in giù da fretta C'è un app sul telefono che devi scaricare Si chiama over radio Ed è facile da usare Bisogna d'aiuto anche tu Chiama subito con la over radio Con il 112 potrai parlare Non ci sarà molto da aspettare Che la posizione è la vera di sicurezza E l'impervento di soccorso Mi rammerezza Se è successo un incidente O ti senti proprio mai C'è la buca per te E la vita mi chiamare Sicuro sta vicino al soccorritore Che fa domande a colpare al professore Mi scuota un poco per sapere Se il dotato riesce a vedere Ha aperto gli occhi improvvisamente Ma la sua mente è ancora assente Controlla la pressione Spedisce il risultato Anche dell'ossigeno Che appena misurrà La sala operativa Ordina i dati Che all'ospedale E con i nombrati Con la mascherina Nel pubblicino Ha messo l'ossigeno Al ragazzino Carica amarella Un altro operatore L'ossigeno della montanza Accende il motore In codice che non te ne viene ascoltato Ma la società è stata già in età State tranquilli Domani riprenderemo La nostra partita E vinceremo La nostra partita Quack